Attività paranormali nelle telecamere di sicurezza 2010, siamo in una scuola in Malesia e due persone vi si introducono abusivamente ignorando di essere ripresi dalle telecamere di sicurezza ancora attive. I due sembrano avere una piccola discussione e finiscono per separarsi momentaneamente. Dopodiché, l'uomo, da solo in una delle stanze, è vittima di una leggera attività poltergeist. Sedi che si spostano, schermi che si accendono, porte che si aprono. La ragazza dall'altra stanza, però, non può considerarsi così fortunata. L'apparente entità sembrerebbe riservare il meglio appositamente per lei. Scagliandola addosso sedia, tavolo, tirandola i capelli, terrorizzandola a tal punto da farla cadere al suolo svenuta.